Dove andiamo? Non sappiamo dove andare! Non abbiamo visto, non devi provare! Non c'è il tuo sogno! Questa è la balぶ fifty due secondi Non io immeri pensando in un video improv What? L Biercià è la bal Excellence Per unizer Ноense Non c'è la violenza E' quello che c'aveva sempre a ferrare il progetto, eh? Gombardini, c'è blu? E' blu? Perché? David è gay! Sono tra Cuatto e figlio di Vapato, ed è una storia in via d'istinzione. E chi non sarà romantica, non sarà. Quindi l'amore è una scureggia in cuore. Ognuno rincorreremo, come sa, a bere di questi a noi si va. Oppure non ci incontreremo mai, ognuno rincorreremo i suoi guai. Ognuno col suo viaggio, ognuno è diverso. Ognuno ha solo perso dentro i casi suoi. C'è тебя schiave! E ti occhio E ti occhio Mi asunto ero Grazie a tutti